Ragazzi, secondo voi come si fa con questi numeri a fare dai 100 ai 200 iscritti ogni 2-3 giorni? Questi sono numeri da canale di 1500 iscritti, ma vogliamo parlare dei like dai 10 ai 30. Ma non è invidia, io voglio sapere come fa, perché voglio farlo anche io. Cioè, questo ragazzo è un fottuto genio.